i comuni della Campania. Fondi per 80.000 euro per promuovere le eccellenze di Napoli della regione Campania nei paesi del Mediterraneo ed intensificare gli scambi anche culturali. E questo è il contenuto di una delibera pubblicata dal Comune di Napoli che muove i primi passi per una piattaforma condivisa con le altre città del bacino. A Bararlo è stato l'assessorato alla cooperazione decentrata del Comune di Napoli retto da Alessandro Fucito. Sentiamo. Dopo lunghi anni, avendo faticosamente reperito delle risorse, annunziamo la presentazione di un bando per 80.000 euro complessivi di progetti e attività rivolti alle associazioni che vorranno promuovere azioni di cooperazione e di interscambio con gli altri paesi a partire dal Mediterraneo. In due parole, più dialogo tra istituzioni, le istituzioni insieme alle associazioni con qualche risorsa che abbiamo rinvenuto. I progetti dovranno puntare prima di tutto a promuovere le eccellenze del nostro territorio, spiega il presidente di Anci Campania, Francesco Paolo Iannuzzi, dall'agroalimentare all'automobile, dall'aerospazio alla moda. Settori che portano reddito e occupazione su cui i comuni vogliono lavorare insieme. Noi riteniamo che bisogna decidere chi fa cosa e con che termini. In questa direzione va proprio quel disegno di legge promosso da Anci Italia per stabilire finalmente che anche i comuni italiani partecipano a processi di cooperazione che vanno proprio nell'ambito della definizione di intesi istituzionali e della collaborazione. Ma un'apertura verso le altre città del bacino si intensificherà anche sul piano politico nelle prossime settimane, visto che, come annunciato da Giacomo Serafini, direttore del CELM, il 4 maggio saranno a Napoli il sindaco Ninablus e il sindaco di Betlemme che con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris tracceranno le linee di un convegno internazionale delle città del Mediterraneo che esiterà a Napoli entro la fine del 2014.